Dopo la vittoria di Angelina Mango durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo e il secondo posto ottenuto da Geolier, che ha creato tantissime polemiche in quanto l'artista aveva raggiunto oltre il 60% al televoto, diventando un meme nell'ultimo periodo specialmente fra la community napoletana su TikTok, Anna Pepe si è espressa al riguardo, postando infatti un tweet cancellato subito dopo, dove subito dopo che Angelina Mango è stata incoronata vincitrice, lei scrive godo notte, chiaramente questo tweet è stato interpretato dai più come un godo che Geolier non sia arrivato primo, è anche un po' uno schermo nei confronti di quel meme che si era diffuso su TikTok negli ultimi giorni, ma chiaramente potrebbe anche significare supporto nei confronti di Angelina Mango, anche se essendo stato cancellato e stato ripubblicato su TikTok, l'interpretazione che è stata usata di più, specialmente su TikTok nei commenti, è stata quella contro Geolier. Anna chiaramente non ha ancora detto nulla al riguardo e inoltre il tweet sembra anche autentico, visto che la primissima pagina che l'ho ripostato subito dopo l'eliminazione, era una pagina gestita da una ragazzina che pubblicava fan edit, quindi insomma non avrebbe motivo di artefarre una roba del genere, ma non aggiungo altro, fatemi sapere voi con un commento qui sotto cosa ne pensate, noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio.